Stava trasportando 26.000 litri di ghesorio di contrabbando in A1, per questo la polizia stradale di Arezzo ha denunciato un camionista polacco. Due pattuglie della sottosezione di battifolle impiegnate nel noto dispositivo a reticolo, infatti lo hanno pizzicato alla guida del mezzo con il carico coperto da un telone sull'A1 prima di Arezzo. Quel tir con una targa straniera ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di controllarlo. Non appena si sono avvicinati al mezzo hanno subito avvertito un forte odore di carburante, seppur dai documenti di bordo risultava che il mezzo trasportava olio industriale caricato a Francoforte e diretto a Caserta. Gli investigatori hanno così chiesto spiegazioni all'uomo di 37 anni che ha fatto il vago dicendo di non saperne nulla, ma i loro sospetti sono stati confermati poiché è bastato scoperchiare il telone e sono venuti fuori ben 26 bidoni pieni di gasolio trasportati in barba all'erario da immettere sul mercato nero. La postrada ha così sequestrato 26 mila litri di carburante dal valore di 35 mila euro, il Tirred infine ha denunciato il camionista per contrabbanda e trasporto non autorizzato di materiale infiammabile.